Ciao a tutti ragazzi questo è un nuovo video iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like e mi piace guardate questo questa formica queste formiche che combattono ma qual è? dov'è quell'altra? eccole guardate sono proprio qua guardate una mini piccola e una grande sono divertenti ok se questo video vi è piaciuto commentatelo iscrivete su per mi piace e è molto è fico si che non so altre cose ma divertenti allora e mettete tantissimi mi piace mettete mi piace a tutti i video e io vi dico se fate non è cattato ah non credo che è cattato no non ha cattato e vabbè vai e ciao spero che vi è piaciuto questo video Irene saluta ciao 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 ciao